Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Maestro buono. Vieni in mezzo a noi e lavaci i piedi, lavaci la mente, il cuore, l'anima. Lavaci totalmente dall'orgoglio e dall'egoismo. Fa che impariamo da Te ad amarci e a servirci umilmente senza mai stancarci. Fino a quando purificati e rivestiti di luce, ci farai sedere alla cena della vita eterna. E, allora ancora Tu stesso, Signore della Gloria, ti degnerai di passare a servirci e di saziarci della Tua gioia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. E allo Spirito Santo. Grazie a tutti